All'alba di questa mattina ufficiali in servizio presso il nucleo di polizia economico-finanziaria del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno eseguito un'ordinanza cautelare applicativa della custodia in carcere messa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno su richiesta di questa Procura della Repubblica nei confronti di 14 indagati gravemente indiziati del delitto di corruzione in atti giudiziari, in particolare gli indagati di cui due giudici tributari della locale sezione distaccata della Commissione Tributaria regionale della Campania. Due dipendenti amministrativi presso il predetto ufficio, sei imprenditori e quattro consulenti fiscali avevano costituito un efficace sistema per pilotare l'iter procedimentale e condizionare a favore degli imprenditori corruttori l'esito di procedimenti tributari originati da accertamenti dell'Agenzia delle Entrate della Guardia di Finanza di Salerno. Le indagini svolte dalla Guardia di Finanza hanno consentito addirittura di riprendere le dazioni di denaro a titolo di corruzione che per il tramite dei due dipendenti amministrativi, i quali trattenevano la loro quota parte, venivano successivamente consegnate a due giudici tributari. Il passaggio di denaro avveniva sempre in contanti il giorno prima della decisione della Commissione Tributaria regionale ed in luoghi particolari quali l'ascensore della Commissione. In un caso il giudice non soddisfatto ha persino preteso un'integrazione della somma già ottenuta minacciando un provvedimento non in linea con le aspettative del corruttore. Gli importi pagati ai due giudici per ottenere le sentenze favorevoli oscillavano tra i 5 e i 30 mila euro. In alcuni casi sono state promesse ed azioni di altre utilità come ad esempio l'assunzione del figlio di un giudice da parte di una delle società coinvolte oppure la concessione in uso gratuito di un appartamento in città. Gli accertamenti svolti hanno consentito allo Stato di individuare 10 procedure di cui l'iter è stato condizionato dalla corruzione e verificare che tutte sono state decise con sentenze favorevoli ai contribuenti corruttori con l'azzeramento delle somme dovute al fisco per le imposte base, gli interessi maturati e le sanzioni combinate. Complessante da una prima stima le imposte base, gli interessi maturati e le sanzioni amministrative annullate con le decisioni condizionate dalla corruzione ammontano a circa 15 milioni di euro. Una società di Siano ad esempio ha ottenuto tramite la corruzione la cancellazione di un debito di oltre 8 milioni di euro, per un'altra di Salerno invece la somma contestata ed annullata raggiungeva quasi un milione di euro. Oltre ai provvedimenti cautelari sono state eseguite perquisizione anche negli uffici della commissione tributaria, nelle abitazioni e negli studi di altri professionisti indagati la cui posizione è in corso di valutazione. Ad uno dei due dipendenti della commissione tributaria sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 50 mila euro in contanti. I ricorsi proposti dai corruttori avverso gli accertamenti fiscali che avevano portato alle contestazioni delle imposte base erano stati quasi tutti respinti in primo grado dalla commissione tributaria provinciale di Salerno.